Mi dispiace che purtroppo è toccato a me fare l'ultimo discorso, l'attenzione è un po' più bassa. Hanno parlato gente, a partire da Gian Fausto, ad arrivare a tutti gli altri, chi fa aerei, chi è ingegnere, chi è avvocato. Io non ho slide, non sono un avvocato, non sono ingegnere, non faccio aerei. Mi diverto, faccio questo. Non avevo neanche preparato un discorso, perché io volevo godermi, io tuttora mi ricordo le Letty Day, ero lì accanto a Mauro, mi ricordo le Letty Day, l'ultimo che ho fatto, dove mi godevo quelli che parlavano. Perciò ho detto non preparo nessun discorso, però vedevo gente che arrivava con le slide e ho detto beh qualcosa anch'io lo devo mettere, se no come facciamo. Comunque, questo è il mio discorso, corsi e ricorsi storici, bugia, in realtà non è questo. Era questo di cui volevo parlare collegandomi un po' a quella che è la storia di Matera, perché tocca a noi giovani cambiare le cose. Gian Fausto dice sempre una cosa, dice due cose. La prima è che lui camperà ancora due mesi, che mi fa ridere sempre. L'altra dice che appunto per questo sono cavoli nostri per tutto ciò che sta succedendo. Cambiamento climatico, le guerre, Paolo le ha dette prima, sono cavoli nostri. E Matera è un po' più delicato il discorso, perché il sindaco oggi ha detto che Matera, sto da questa parte anch'io, il sindaco ha detto oggi che Matera è una delle città più antiche al mondo. Voi sapete, faccio questa domanda ai materani così vedo se sono bravi o meno, io non sono materano, ho vissuto qua per un po' di anni però non sono proprio materano. Sapete perché Matera ha vinto il patrimonio dell'UNESCO? Qual è il motivo? Per i sassi è la risposta più classica. Non tanto per le cisterne, ma quanto per il sistema di raccolta dell'acqua. Cioè i materani, che sono un po' taccagni, volevano raccogliere fino all'ultima goccia di acqua, questo parliamo di migliaia di anni fa, erano bravissimi nel farlo, mentre le altre città neanche si formavano a Matera, erano avanzatissimi. Cioè noi ragazzi, questa cosa è una cosa che dovete flexare un po', eravate avanti anni luce. Arriviamo fino al 1950, che vi cacciano via dai sassi per le condizioni scandalose in cui si viveva. Cioè la città di Matera è arrivata dall'essere l'apice della cultura e della tecnologia ad essere chiamata vergogna d'Italia. Gente che viveva con gli animali. Scandaloso. Poi cos'è successo? Fino al 2019, fino al Matera capitale della cultura europea, siamo arrivati di nuovo all'apice. Film, James Bond, Wonder Woman, tutti i film fatti qua, i sassi pieni di turisti, abbiamo vinto per due anni di fila la città più ospitale su Booking. Siamo all'apice di Matera di nuovo. La questione è, i corsi e i ricorsi storici, io che rispetto a Mauro non studiavo a scuola, ho cercato su Google stamattina, infatti vedevo che le mie ricerche oltre a questo, perché stiamo arrendendo l'ufficio, sono tappeti, piante, divisori per le scrivanie, quindi ho fatto tutto al volo, corsi e ricorsi storici significa rappresentare il cammino dell'umanità che dall'alto ricade di nuovo al basso, è quello che succede. Quindi la domanda è, e sta a noi capire come andrà, se andremo verso il basso o verso l'alto, fare questa modifica qua, perché fino ad oggi facevamo la tecnologia per l'uomo. La tecnologia a passo d'uomo. Oggi dobbiamo fare gli uomini per la tecnologia. Oggi non possiamo andare avanti senza saper usare i digitali, senza avere le skill digitali, è fondamentale averle per poter continuare. E in una città come Matera, una città in cui veniamo riconosciuti soltanto per i sassi, io mi arrabbio ogni volta, a me non piacciono i sassi, sono scomodissimi per viverci. Chi viene a visitare i due giorni sono bellissimi, a viverci no, non si può, perché a Matera dobbiamo far capire alle persone che non ci sono soltanto i sassi. Questa è la cosa fondamentale. Questo discorso però l'ho fatto un po', perché qua c'era gente un po' più, non so, relatori bravi, quindi ho detto dai faccio questo discorso motiva sinale, chiudiamo la parentesi, ora parliamo del discorso vero e proprio, perché faccio un po' la parte del giovane. Dovete sapere, voi relatori, che la domanda che, Paolo forse lo sa, la domanda che più ai ragazzi dà nell'occhio, cioè la domanda che si fanno per ogni relatore che si siede, si alza, si siede, si alza, è ma questo quanto guadagna? Parliamo di tutti i relatori, la domanda che viene più spesso ai ragazzi, perché io e anche me nel 2019 è tuttora, quanto guadagnano? Ed è una cosa che, ripeto il termine, non posso flexare, perché sono povero, non posso dirvi che guadagno, non posso parlare di queste cose qua. Perciò l'unica cosa, conoscenza più di loro non ne ho, esperienza più di loro non ne ho, soldi più di loro non ne ho, l'unica cosa che rispetto a loro posso flexare e tutti noi possiamo farlo, è questa. Come si cambia? Ok, che bella la povertà. Pensate che l'ho fatto su Canva mezz'ora fa e mi sono dimenticato di togliere la parte sotto che c'è scritto edizione serata tra donne, non ci fate caso, va bene? Era questo, succede ogni tanto quando lo fai al volo. Che bella la povertà, perché dall'essere poveri si arriva, non a diventare ricchi, perché vabbè qua c'è gente che è stata povera, tutti sono stati poveri, ma che bella la povertà perché possiamo flexarla, perché Kit4U, l'azienda che noi abbiamo creato, vi spiego in due parole cos'è che fa Kit4U, più di due parole, non so contarle, trova lavoro ai giovani che hanno appena finito la scuola, non sono due parole, i giovani che hanno appena finito la scuola e che hanno bisogno di trovare lavoro sono poveri, sono poveri come eravamo noi e come siamo ancora poveri. Kit4U è una società fatta dai poveri, è Gian Fausto, per i poveri. No, non sei povero, però non diciamolo. E questa è la logica, per farvi capire il livello di povertà, io faccio vedere questa foto che a Mauro non l'ho fatta vedere, vi scandalizzerete. Gian Fausto, la prima cosa che ci hai fatto capire quando abbiamo fatto la società, prima ancora di farla, quando ci siamo conosciuti e tutti i piece day eccetera eccetera, ci ha fatto capire che gli start-up sono poveri, gli start-up rimangono poveri per un bel po' di tempo, quindi l'obiettivo di fare soldi non esiste, no, le start-up si fanno perché ti deve piacere ciò che fai. Ci ha chiesto di trasferirci a Brescia, non abbiamo soldi, abbiamo trovato una casa scandalosa, non c'era riscaldamento e le condizioni, dopo che ti svegliavi alle 6 del mattino, facevi la Digital Universitas, un corso, un master che ho fatto stupendo e che consiglio a tutti di andare a guardarvelo, tornavamo a casa, lavoravamo sul progetto di Kit4U, a mezzanotte all'incirca le condizioni erano, vado di qua, queste. Questo è un selfie che ho fatto, nella nostra casa non avevamo un riscaldamento, io ero coperto col piumone, Mauro che si mangiava il suo pane e Nutella, penso, non mi ricordo, io che facevo la mia cioccolata calda, era questa la situazione, ogni sera è stata così per un anno circa. Questa è la povertà. Ora, voi vi aspetterete il discorso da Steve Jobs, eccomi dove sono ora, no, sono ancora povero, quindi la situazione è più o meno questa. Adesso a casa c'è il riscaldamento, però costa un po'. Questo è il motivo per cui abbiamo creato Kit4U, perché ci appassiona stare a contatto con i giovani, ci appassiona riuscire a risolvere un problema che noi in primi sapevamo, cioè noi ci siamo trovati, gli ultimi mesi di scuola, gli ultimi mesi dei superiori, che non sapevamo cosa fare, non eravamo raccomandati, non ci piacciono i raccomandati, o forse non ci piacciono perché non lo eravamo, non lo so, e quindi dovevamo inventare qualcosa, perciò è nata Kit4U. Il motivo per cui Kit4U è per i poveri, è perché quello che noi facciamo, in pochissime parole, è aiutarli a capire come trovare lavoro. Il motivo per cui vi capiamo è il seguente, io e Mauro abbiamo un meme, questa è un'altra raccontata che ci sarebbe stata, abbiamo un meme che ci ha guidato a vita, ed è il seguente. Questo è qualcosa che i ricchi non possono capire, cioè quando vi fanno la domanda al colloquio di lavoro, perché vuoi questo lavoro? No, non ci piace l'azienda, cioè io adesso ho la mia azienda e mi piace, non vi piace l'azienda in cui lavorate, non vi piace la loro storia, a meno che non la avrete in alcune aziende, no, i poveri hanno la passione di potersi permettere del cibo, è una delle più grandi passioni al mondo, quindi è questo il motivo per cui abbiamo creato Kit4U, per dare cibo ai poveri. No, scherzo, non siamo la azienda benevole. Però, insomma, concludendo un po' tutto quello che è stato l'evento, quello che è, non si può dire, tutto l'evento, concludendo un po' tutti questi discorsi, mi spiace che tocca a me, discorsi di questi relatori e chiudere con il discorso che la povertà è bella, però è successo così. Potete sempre usare, non vi dico che diventerete ricchi, non voglio diventare neanche io, ma voglio divertirmi mentre lavoro e voglio trovare un lavoro che possa permettere del cibo. Grazie. Grazie.